Ciao mamma e papà, per la serie passeggini leggeri e come sceglierli oggi mettiamo confronto due best seller del settore ossia Yo-Yo di Baby Zen e Quid 2 di Inglesina e lo facciamo attraverso il criterio fondamentale che di solito scegliete per un passeggino leggero ossia il loro peso, per Yo-Yo è mentre per Quid 2 adesso guardiamo la loro chiusura, altro criterio che di solito ci chiedete entrambi sono semplicissimi da chiudere, ognuno lo fa con il proprio meccanismo Yo-Yo si trasporta con la maniglia in dotazione e le sue dimensioni da chiuso sono queste per riaprirlo poi basta ovviamente un semplice click Quid 2 invece si chiude altrettanto velocemente sta in piedi da solo e le sue dimensioni da chiuso sono queste guardiamo poi gli accessori che per Yo-Yo sono mentre per Quid 2 sono ovviamente disponibili entrambi sia nel nostro negozio di Verone che il nostro shop online disponibilissimi per fare una videochiamata o una consulenza in negozio per scegliere quale dei due è il passeggino migliore per voi e per il vostro bimbo considerando tutta l'estate Grazie